26 anni di esperienza nel settore delle investigazioni private, parliamo oggi di Control Service, azienda leader di questo settore che è dal territorio pesarese, poi si dirama in investigazioni un po' in tutta Italia. Alessandro Giuliani è il titolare della Control Service, il tema delle investigazioni è un tema che continua a essere al centro comunque di un'attività importante, investigazioni aziendali, investigazioni private, questi diciamo i focus sui quali vi concentrate. Sì, diciamo che ultimamente lavoriamo molto più sulle indagini aziendali, quindi per conto di aziende, soprattutto per quanto attiene il discorso dei dipendenti, quindi personali in malattia, legge 104 e cerchiamo di documentare eventualmente questi abusi che vengono fatti dai dipendenti non proprio corretti. Ovviamente facciamo anche delle indagini sulla concorrenza sleale, sempre in ambito aziendale e poi le classiche indagini di infedeltà coniugale. Al di là del rapporto che si rompe tra un marito e una moglie c'è anche un aspetto poi economico, quindi diciamo che un'agenzia investigativa interviene in varie fasi, nella fase della separazione, del divorzio, della valutazione se una parte piuttosto che l'altra sta lavorando, quindi ha una capacità reddittuale, come gestiscono i figli minori, quindi diciamo che la nostra attività viene svolta un po' in tutte le fasi della separazione e del divorzio. Sta crescendo anche il discorso, soprattutto nella fase, diciamo nella stagione estiva, il controllo dei giovani, cioè i ragazzi tra i 13 e i 18 anni, in cui i genitori si sentono alcune volte non riescono a controllare i figli e vogliono stare tranquilli, che non prendano delle brutte strade, ovviamente sempre la preoccupazione è quella della droga o dell'abuso di alcol. Facciamo diverse indagini, diciamo soprattutto nel centro Italia dove operiamo con i nostri collaboratori diretti e molto spesso si tranquillizzano o se ci sono delle situazioni di pericolo riescono ad intervenire, quindi l'agenzia investigativa è utile per capire qual è il livello della situazione attuale del ragazzo, cioè se abusa o se è effettivamente arrivato molto avanti, quindi il caso di intervenire. Fino a dove ci si può spingere? Quali sono i confini dell'investigazione? Sì, il confine è sempre il diritto da tutelare, quindi noi possiamo accettare degli incarichi soltanto se c'è un diritto da difendere sede giudiziaria, in questo caso sul controllo dei minori non a caso detto 18 anni, perché al compimento del 18esimo anno anche un genitore non ha il diritto di indagare sul figlio, proprio perché è maggiorenne, quindi finché è minorenne può indagare e vedere se fa queste cose per cui richiede il nostro controllo. Maggiorenne no e anche per il discorso dell'infedeltà se c'è un diritto, nel senso un marito o una moglie possono darci un incarico per fare un'indagine, un amante no, o il vicino che per curiosità vuole sapere cosa fa quello che abita a fianco a casa sua, non può darci l'incarico, per cui come base c'è un diritto da difendere, se sì noi lo possiamo accettare, se no non lo possiamo fare, questo per tutelare la privacy. Ovvio che non siamo tenuti a informare la parte che stiamo facendo un'indagine proprio se c'è un diritto, perché altrimenti sarebbe inutile fare un'indagine se avverto che indagheremo su di lui. L'investigazione ha un punto d'arrivo con la presentazione di un rapporto al cliente, ma un rapporto che può essere anche presentabile in sette giudiziari, un documento attestato da questo punto di vista? Sì certo, molto spesso, diciamo un buon 50%, la nostra attività finisce davanti a un giudice con una testimonianza dove confermiamo quello che siamo riusciti ad acquisire durante la fase di indagine, per cui ovviamente la nostra è un'attività autorizzata, abbiamo una licenza della Prefettura di Pesurbino già dal 1997, per cui possiamo svolgere indagini e possiamo andare a confermare quello che abbiamo tirato fuori dalla nostra indagine.